All'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar il 2021 è iniziato con le prime somministrazioni del vaccino anti-covid-19, arrivato nel pomeriggio del 31 dicembre in Valpolicella. Ieri 1 gennaio le prime 120 dosi e oggi le altre 120 somministrate a operatori sanitari e ospiti delle case di riposo della Cittadella della Carità. Prima vaccinata dell'anno a Negrar è stata Elena Ruffo, operatrice sanitaria che lavora in reparto Covid del terzo piano del Don Calabria, ma anche il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali, Zeno, Bisoffi. Devo dire che mi sento una privilegiata, mi sono anche domandata il motivo, ma forse perché mi trovo in prima linea già dalla prima ondata Covid, quindi già da marzo e fino ad ora ho tenuto duro, quindi forse mi hanno premiata. In occasione della vaccinazione ne approfittiamo per fare anche un prelievo per il dosaggio degli anticorpi del coronavirus del SARS-CoV-2. Noi avevamo già fatto su tutto il personale una, chiamiamola, survey sierologica e anche con i tamponi molecolari nella fase della cosiddetta prima ondata. Abbiamo pensato di approfittare di questa occasione in cui tutti ci vacciniamo per effettuare anche il prelievo, proprio immediatamente prima della vaccinazione, per verificare da una parte su quelli che avevano già anticorpi, quindi avevano già contratto il virus, qual è l'eventuale persistenza o meno del titolo anticorpale sierologico e dall'altra invece per quelli che non avevano mai contratto il virus, per verificare se per caso l'avevano contratto magari in forma inapparente ed era sfuggito e anche per vedere poi l'effetto della vaccinazione, quale sarà sull'andamento degli anticorpi. Il nostro personale sarà vaccinato, chi vorrà naturalmente, ma io spero tutti, sarà vaccinato e alla fine della vaccinazione avremo probabilmente l'ospedale immunizzato, il nostro personale sarà totalmente immunizzato e quindi potrà affrontare questa pandemia con più serenità perché non potrà infettare gli altri e perché non potrà essere infettato e questa è una grande gioia per noi.